E' in programma il prossimo 9 dicembre, mercoledì alle ore 17.30 presso il Museo Diocesano di Salerno l'incontro a Betlemme con San Girolamo, riflessioni nel sedicesimo centenario dalla morte. L'evento, che andrà anche in diretta a Facebook sulla pagina del Museo Diocesano, Mu di Sa, vede la partecipazione del biblista Gaetano Di Palma, del direttore del museo Luigi Aversa, della teologa Lorella Parente e dell'arcivescovo della diocesi di Salerno, Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Nonostante le restrizioni dovute all'emergenza Covid, la Chiesa Salernitana è molto attiva, con grande cura e creatività, nel promuovere iniziative di presenza, di formazione e di evangelizzazione anche in questo periodo di avvento, in preparazione del Natale. Un cammino quanto mai necessario per affrontare con il giusto sostegno spirituale la difficile fase emergenziale che va avanti ormai da mesi. L'ufficio diocesano Cultura e Arte, coordinato dalla professoressa Lorella Parente, docente di Mariologia ed Ecclesiologia presso l'Istituto di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, con il sostegno e la guida di Monsignor Bellandi, sta dando infatti alla cultura, all'arte e alla teologia una nuova centralità per la crescita e la cura dei fedeli e non solo. Appuntamento quindi il prossimo 9 dicembre sulla pagina Facebook Mu di Sa.